Le prime sei giornate di campionato non sono state certamente positive per le ragazze della cosenza pallanuoto, soprattutto in riferimento a quelle che erano le aspettative. Quattro punti sono un bottino magro, ma dal 21 gennaio c'è la possibilità di rifarsi. Fra circa 20 giorni infatti riprenderà il campionato dia 1 di pallanuoto femminile e le ragazze di coach capanna ospiteranno Bologna, un match non facile ma da vincere per rilanciarsi in classifica. Le ragazze calabresi si stanno preparando per affrontare al meglio questo impegno, ma la preparazione passa anche dalla Coppa Italia. Il prossimo weekend infatti proprio a Cosenza si giocherà appunto per la Coppa e la squadra calabrese è stata inserita nel girone C insieme a Catania e Messina. Per la precisione si giocherà sabato 7 e domenica 8. Il calendario del girone 3 prevede la disputa del primo match sabato alle ore 15 e di fronte ci saranno Cosenza e Catania. Successivamente domenica mattina alle 11 è in programma il derby siciliano, infine alle 15 è in programma la sfida tra Cosenza e Messina, le prime due passano alla fase successiva.